Il punto cruciale sulla legittima difesa è la inversione dell'onere della prova. Da adesso dovrà essere il delinquente a giustificarsi e non a chi si è difeso. Questo è il punto cruciale. Poi noi siamo per la legittima difesa H24. Noi siamo perché la difesa sia sempre legittima 24 ore su 24. Se il testo è uscito alla Camera va bene, ok. Se il testo non è chiaro su questo aspetto, c'è sempre il Senato e si migliora. In questo passaggio l'accordo di maggioranza ha funzionato e le opposizioni si sono sottratte. Anche al Senato noi siamo per fare funzionare l'accordo di maggioranza, quindi chiunque a cominciare dal PD voglia rafforzare il testo nella direzione di una difesa H24 che sia sempre legittima, troverà alternativa popolare tutti noi al fianco di questa idea.